Si è riunito questa mattina nella sede municipale di Teramo il tavolo istituzionale sul settore automotive. L'incontro è organizzato dal Comune in collaborazione con Fium CGL e Fium CISLE alla presenza dei sindaci interessati e della provincia all'obiettivo di permettere alle aziende di investire sul territorio mantenendo adeguati valori produttivi e occupazionali. Perché ci sia intanto una forte vertenza territoriale e politica istituzionale di un territorio che è stato troppo penalizzato e considerato non prioritario nell'azione che la Regione ha messo in atto nel corso di questi anni. Non ne voglio fare neanche una questione politica, c'è stata una percezione che il problema e la questione dell'automotive fosse limitata solo e esclusivamente all'era del Chietino. Così non è, è forte, è fortissima l'incidenza diretta e indiretta del settore automotive sulla nostra provincia e quindi deve essere assolutamente una priorità. Ecco perché sederci tutto intorno a un tavolo ci consentirà di sviluppare un piano di azione che metta al centro anche l'area che potrebbe anche essere definita, legata al cratere, un'area di crisi complessa che metta al centro la formazione, che metta al centro azioni anche di agevolazione per tutto il settore che in questo momento è in sofferenza e in difficoltà anche nella fase della cosiddetta transizione che si sta vivendo e che dobbiamo governare per non subirla e poi anche le infrastrutture. Lo scopo dovrà essere raggiunto tramite un percorso condiviso, sviluppando politiche comuni alla luce delle continue attuali dinamiche di sistema. Il compito è quello di reindirizzare la filiera industriale dell'automotive e creare azioni di sistema. Quello che noi ovviamente chiediamo è non soltanto di fare un'analisi ma di condividere quelli che sono gli obiettivi, cioè provare a condividere gli obiettivi per fare fronte comune ed approcciarci a questo cambiamento in modo preparato come con la formazione innanzitutto cercando di creare opportunità e lavoro stabile, quello che ci interessa di più, quindi combattendo la precarietà. Purtroppo i lavoratori in somministrazione sono quelli che risentono da subito della discesa del mercato e quindi questo non lo possiamo permettere, ma anche con le infrastrutture. Innanzitutto oggi condividere gli obiettivi, cercare di uscire anche con un documento per evitare che siano soltanto parole al vento e portare avanti degli obiettivi insieme con la determinazione di chi vuole salvaguardare la ricchezza di questo territorio. Deve essere un tavolo costruttivo, non deve essere un tavolo lasciato lì tanto per, deve avere un proseguo, quindi oggi dovremmo uscire con un documento congiunto di impegno da parte di tutti per sostenere e per valutare questa filiera dell'automotive che ci invidiano tutti perché noi non siamo secondi a nessuno. Va tutelata, ma va tutelata con fatti, va tutelata abolendo tutta quella che è la burocrazia, le infrastrutture e quant'altro. Quindi l'impegno di oggi è quello di tutelare le aziende e soprattutto in particolar modo di tutelare chi lavora dentro.